Buongiorno, ben trovati, giovedì 7 marzo 2019, consueto appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola, iniziamo come sempre con le prime pagine dei giornali delle testate locali, partiamo dal centro, iniziamo con l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda un fatto di cronaca avvenuto proprio all'alba di ieri, violentata in una casa abbandonata, cinquantenne, ucraina, aggredita, mi hanno colpito alla testa, è stato fermato un uomo, vediamo poi le altre notizie, le altre notizie di questa prima pagina, restiamo alla cronaca, Neri, la città tappezzata di foto e appelli, parliamo dell'omicidio di Alessandro Neri, avvenuto proprio un anno fa e poi il giallo della morte di Roberto Straccia, papà Straccia, ditemi la verità su mio figlio, sono state riaperte le indagini. In alto si parla ovviamente poi di politica perché è iniziata ufficialmente la nuova, ha preso il via la nuova avventura politica, in questo caso della giunta regionale targata Marsiglio, la nuova giunta regionale di centrodestra, ieri c'è stata la conferenza, poi vedremo il servizio del presidente della regione per illustrare un provvedimento che sblocca diversi milioni di euro per il miglioramento della viabilità delle quattro province, oggi si insedierà la nuova giunta regionale all'Aquila e dunque verranno presentati gli assessori con le rispettive deleghe, nuova giunta con la grana zelli, vedete il titolo perché è stata estromessa proprio dalla giunta la formazione civica che era stata fondata da Gianluca Zelli, anche in questo caso poi vedremo il servizio. Andiamo a vedere anche gli altri titoli, a proposito di regione Legnini annuncia domani sarà battaglia e poi sicurezza, il TAR sblocca i lavori urgenti sulle autostrade a 24 e a 25 e poi le pensioni a quota 100 portano mille nuovi posti di lavoro. Vediamo poi in basso, il Pescara ringrazia la difesa, il segreto soltanto tre gol subiti nelle ultime cinque partite, anche in questo caso poi vedremo un servizio. Andiamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti, Lanciano, vasto e giovane, pena ridotta all'assassino, ecco le motivazioni del delitto di Marco, concesse le attenuanti. Lanciano, ospedale Renzetti, nefrologia e reparto dei record cura anche casi rari, vedete la foto dello staff dell'ospedale lancianese del reparto di nefrologia. Vediamo altre notizie, San Salvo, il gruista morto ad Ancona si indaga su un errore, questo è il titolo principale, poi Chieti, lavori sul corso e negozianti, ora no, hai ritardi in basso. Cavallucci, voglio il titolo, parla il Pugile Teatino, domani al Pala Santa Filomena, la finalissima dei pesi, Welter. E poi una notizia che riguarda il calcio internazionale, la Roma esce a testa alta ai supplementari della Champions League, perde in casa del Porto e a questo punto il tecnico Eusebio Di Francesco rischia il posto, rischia la panchina dopo anche la sconfitta nel derby con la Lazio. Vediamo la prima pagina di Teramo del centro, muore in ospedale, c'è l'inchiesta, la procura indaga sul caso della 43enne deceduta in sala operatoria. E poi l'attore nel carcere di Teramo si tratta di Michele Placido, lo vedete, che incontra i detenuti della casa circondariale Castrogno di Teramo. Vedete la foto. Restiamo a Teramo, ma per parlare di università, perché proprio all'università teramana ci sarà l'alta formazione degli agenti della Polizia di Stato. Giulianova Soldà non posso imbalsamare questa città, dice il commissario. Vediamo poi in basso Quintigliani pronto ad entrare, parliamo del Teramo Calcio. L'imprenditore si è incontrato con il patron Biancorosso Campitelli e con il sindaco Gianguido D'Alberto. Dunque potrebbe arrivare nelle prossime ore la fumata bianca. Ci spostiamo alla prima pagina di L'Aquila, Vezzano Sulmona, sempre dal centro. Picchia un architetto condannato. L'Aquila è il noto costruttore cipriani nei guai per lesioni dopo una lite. Vediamo anche più a centro pagina, imprenditore coinvolto nella rivoluzione in Algeria, il trasaccano Cicchinelli, lavora in Nordafrica da 10 anni anni. Vediamo poi le altre notizie, Vezzano, Autopirata, denunciato l'investitore, Sulmona, truffa nei guai, venditore di gratta e vinci. Vediamo anche più in basso, gennaio 2009 scosse e sfilate, terremoto e Sant'Agnese, il racconto della vita cittadina nel decennale, mancano meno di 30 giorni al decennale del terremoto dell'Aquila. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, Regione Scoppia, il primo caso, nessun assessore ad azione politica, Zelli si dimette, un'imboscata di Marsiglio, poi come detto vedremo il servizio, nuova giunta, imprudente vice, la sanità, laveri, sospiri, presidente del Consiglio regionale. Altre notizie, Pescara Chieti, Università, l'ipotesi della privatizzazione, poi troppi bar e ristoranti, chiesto lo stop delle aperture. E poi ancora vediamo più a centropagina altri richiami di argomenti che ritroveremo all'interno del giornale. Truppa aggredita a Rancitelli, un obbligo di dimora e poi reddito partenza a due velocità, ma niente maxi file. E poi in basso l'evento, Verón, la leggenda del tango arriva a Pescara. Andiamo a vedere anche in alto altre notizie, Civitella Alfedena, morta Giacomina, l'anziana che offriva la frutta agli orsi e poi sul Mona, gratta e vinci i taroccati, vendeva solo quelli perdenti. E poi serie B, Scognamiglio in difesa, Pescara ha il suo muro e poi noi ascolteremo proprio Scognamiglio che abbiamo portato ai nostri microfoni. Andiamo a vedere anche il quotidiano La Città, niente caos sul reddito di cittadinanza. Teramo in linea con il resto d'Italia, la domanda va preparata bene per evitare pasticci e denunce. E poi vedete la fila davanti al CAF della CGL a Teramo per il reddito di cittadinanza. File ma non caos nel primo giorno in cui è stato possibile andare a chiedere proprio notizie e informazioni e anche per chi ne ha diritto, proprio la documentazione necessaria per avere il reddito di cittadinanza. Andiamo a Roseto, subito sostituiti i pali cadenti, il Comune non aspetterà il nuovo project e poi non mi hanno mandato per imbalsamare Giulianova, parla il commissario di Giulianova Soldà. Vediamo anche in basso il calcio, torniamo a parlare del Teramo, Campitelli Quintigliani bocche cucite ma la trattativa va avanti e dunque potrebbe esserci la fumata bianca. Noi lasciamo per il momento le questioni di casa nostra, lasciamo i quotidiani regionali. Andiamo a vedere invece l'edicola nazionale, partiamo dal Corriere della Sera, si parla di TAV ultimatum del Vice Premier Salvini, vedete il titolo di apertura del Corriere della Sera, difesa sempre legittima, ok della Camera, strappo di 25 deputati del Movimento 5 Stelle e poi sarò leale con Zingaretti, ho distrutto io i 5 Stelle, intervista con Renzi che dice che sarà leale con il neo segretario del partito Zingaretti. Vediamo poi altre notizie, una in particolare che riguarda la svolta nella banca d'affari, si va al lavoro con i jeans, il nuovo capo di Goldman Sachs cambia dress code, questa notizia che arriva dagli Stati Uniti con ormai un modo diverso anche di presentarsi al lavoro. Siamo alla Repubblica, NITAV, Di Maio ribadisce il no al progetto, mentre Salvini insiste per il sì, Conte prova ancora a mediare, ma adesso il Governo trema, prove di nuova maggioranza alla Camera, la legittima difesa passa con i voti del centro-destra, i grillini si spaccano. E poi vediamo il reddito di cittadinanza, il primo record di richieste tocca alla Lombardia, subito 60 mila domande. Andiamo a vedere il prossimo quotidiano che è il Fatto, TAV e Governo, la resa dei conti, Salvini arriva con il bancarottiere, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, Di Maio e i tecnici su noi, leghista con il sottosegretario condannato, scrive il Fatto. E poi in alto il povero Calenda chiede il TFR a Di Maio, respinto, questo è il titolo nella parte alta della prima pagina. E poi vediamo anche un'altra notizia, la sentenza, la consulta infatti ha deciso a sfruttare le prostitute, resta reato, legge Merlin, salva. Vediamo poi il messaggero nazionale, il Governo vacilla sulla TAV, questo è il titolo di apertura del messaggero, vertice fiume nella notte, alta tensione tra i 5 stelle, Salvini sarà un sì o un no, niente forse, lettera dell'Unione Europea, l'Italia rischia 800 milioni e poi sulla legge che riguarda la legittima difesa, ok della Camera, 25 le defezioni grilline. Poi vedete in basso questo titolo in grigio, reddito un quarto dei beneficiari avrà meno di 1000 euro all'anno, esordio senza code, gli spada in fila ad Ostia. E poi la Lega, scuola ai bambini, Novax, rivolta dei presidi, il Vice Premier rincorre il Movimento 5 Stelle, un decreto supera il divieto, ma il Ministro Grillo spetta, dice, alle Camere. Poi il titolo che riguarda il calcio, il VAR condanna la Roma al 116, addio Champions League, con proteste per i giallorossi. Il mattino di Napoli, TAV, il Governo nel tunnel, l'Italia rischia 800 milioni. E poi vedete più in basso c'è questa notizia con corredo di foto, censurati i nudi delle statue, la provocazione del Museo, una delle statue censurate al MAN nella Sala Farnese dell'archeologico di Napoli. Siamo a Libero, fannulloni senza rimedio, titola Libero, per non rischiare di lavorare, rifiutano il reddito dei grillini, per ora meno richieste del previsto. E poi dimissioni, Toninelli, Tentenna, poi si placa, me ne vado o resto? Resto, resto, dice, scrive il quotidiano Libero, vediamo il manifesto, legittima difesa, la fronda del silenzio, la Camera approva la legge, bandiera di Salvini, secondo il manifesto, nel silenzio delle opposizioni, in questo caso. Poi vedete la foto, guerra per bandi, sfida notturna sulla TAV tra Lega e Movimento 5 Stelle, sul via libera ai bandi Salvini e Di Maio su posizioni opposte. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore, parte la vendita dei beni di Stato, sfida da 3 miliardi. Il Tesoro infatti avvia la selezione degli advisor legali per Tranche da 1 miliardo e 200 milioni, un programma di cessioni straordinarie si aggiunge a quelle previste dal MEF, in cabina di regia potrà sedere Cassa, Depositi e Prestiti insieme a Invimit. Vediamo anche il prossimo quotidiano che è la stampa di Torino, che ovviamente dedica grande spazio alla questione TAV, TAV, la resa dei conti nel governo, LOC si rivede intanto al ribasso la crescita dell'Italia nel 2019, recessione con il PIL a meno 0,2%. Vediamo anche il tempo, Acea dona alla raggi un tesoretto, guadagni boom della multi utility più 50%, alla sindaca 77 milioni di euro non previsti, Donnarumma chiude il migliore bilancio di sempre e riesce a lenire le ferite di Ama e Atac. Parliamo ovviamente di questioni molto inerenti alla capitale, restiamo nella capitale ma per parlare dell'uscita di scena della Roma della Champions League, l'arbitro fa fuori la Roma dalla Coppa, giallorossi eliminati in Champions dal Porto grazie ad un rigore inventato, finisce 3 a 1 per la formazione lusitana. Fermate quel farmaco, fa male ai ragazzi, la fabbrica dei transessuali, i medici di tutto il mondo dichiarano di non conoscere gli effetti che può avere la tri-pro-trelina usata per bloccare la pubertà, questo è il titolo di apertura della verità. E poi vedete, ha fatto a pezzi Pamela mentre era ancora viva, il pentito si presenta in tribunale, accusa ocegale, mi ha raccontato tutto, la violentata e poi uccise e ha anche confessato di far parte della mafia nigeriana. Ricorderete questa drammatica vicenda di questa giovane morta a Macerata. Andiamo a vedere anche il prossimo giornale che è l'Avvenire, pistole non vaccini, la Camera è sì contestato alla legittima difesa, 25 però del Movimento 5 Stelle non la votano e Salvini chiede a Grillo di ammettere in classe i bambini non immunizzati. Poi vediamo a centropagina, donne in fuga dalla Siria, noi profughe resistiamo così e poi Merlin salva la legge, la consulta, fa muro, respinto il ricorso, resta reato, sfruttare o favorire la prostituzione. Questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per quanto concerne l'edicola nazionale. Torniamo ai giornali locali, ripartiamo dal centro, da pagina 2 ovviamente per parlare di politica perché ha preso il via ufficialmente il lavoro della nuova giunta regionale. Vedete il nuovo governo Marsilio, i sei assessori, ecco tutte le deleghe, oggi prima delibera, anche il Consiglio cambia composizione, ha sospiri la presidenza dell'assise, affebbo il posto in giunta, vedete questo specchietto di come sarà il nuovo Consiglio regionale, ovviamente per motivi di tempo non possiamo leggere tutti i componenti della nuova assise regionale, però possiamo vedere anche grazie a queste foto chi sono e quali sono i nuovi assessori, vedete Emanuele Imprudente, vicepresidente e assessore con delega all'agricoltura, caccia e pesca e poi parchi e riserve naturali, Piero Fioretti, assessore esterno con delega al lavoro formazione professionale, Nicola Campitelli, assessore all'urbanistica e al territorio, Nicoletta Averì, assessore alla salute, Guido Quintini Liris, assessore con delega a bilancio, aree interne e del cratere, Mauro Febbo di Forza Italia, sarà il nuovo assessore con delega alle attività produttive e questi sono i nomi appunto degli assessori che vanno a comporre la nuova giunta regionale, a sospiri invece è andata la presidenza proprio del Consiglio regionale, ci sono stati ovviamente con la nomina degli assessori dei ripescati, cioè primi dei non eletti che andranno proprio in Consiglio regionale, tra questi vediamo nella Lega per esempio Luca De Renzis che si era candidato nella circoscrizione di Pescara, in Forza Italia Gabriele Astolfi, ex sindaco di Atri, poi ovviamente nel corso del Tg, delle prossime edizioni del nostro telegiornale entreremo nel merito di queste decisioni della nomina degli assessori, tra l'altro questo pomeriggio alle 17.30 ci sarà proprio all'Aquila l'insediamento della nuova giunta regionale e ieri c'è stata la conferenza stampa proprio di Marsilio a Pescara per parlare dello sbocco dei fondi per quanto riguarda la viabilità provinciale alla presenza dei presidenti delle province, conferenza stampa che si è tenuta a Pescara presso la sede del Consiglio regionale di Piazza Unione, allora possiamo andare a vedere il primo servizio curato per noi da Alfredo Primante. Rispetto alle anticipazioni della vigilia nessuna novità, nella Lega il ballottaggio per l'assessorato esterno lo vince Piero Fioretti, braccio destro del coordinatore regionale del carroccio Giuseppe Belachioma e coordinatore provinciale di Teramo che avrà la delega al lavoro e alla formazione. Il compito di guidare un settore complesso, quale quello della sanità, spetta a Nicoletta Verì, l'unica donna nella giunta Marsilio, delegata anche alla famiglia e alle pari opportunità. Alla Lega anche la vicepresidenza a cui si accoppiano le deleghe all'agricoltura e alle ambiente, ruoli affidati ad Emanuele Imprudente, mentre a Nicola Campitelli, architetto, andrà la delega all'urbanistica, oltre a quella ai rifiuti. Al momento per Forza Italia c'è un solo assessorato, quello alle attività produttive al turismo guidati da Mauro Febbo. L'accordo di maggioranza infatti prevede che attraverso un'apposita riforma il sottosegretariato alla presidenza affidato ad Umberto De Annuntis, che è incaricato di seguire le infrastrutture, i trasporti e i lavori pubblici, diventi un vero e proprio assessorato. A completare il quadro dai sei assessori che compongono la giunta, Guido Quintino Liris, che per Fratelli d'Italia si occuperà di bilancio personale e patrimonio, aree interne e del cratere. Al presidente restano in capo deleghe pesanti a partire dai lavori pubblici per passare alla ricostruzione, alla protezione civile e ai rapporti con l'Europa. La carica di presidente del Consiglio regionale invece spetta a Forza Italia, che ha indicato Lorenzo Sospiri, che però deve attendere il voto in Consiglio regionale. In un generale no comment sulla questione giunta, rimandando ogni valutazione alla conferenza stampa che ci sarà domani all'Aquila alle 17.30, con a seguire la prima riunione di giunta fissata per le 18, è stato laconico il presidente Marsiglio sulla carelle con azione politica. Presidente, ricucirete lo strappo con azione politica? Non c'è nessuno strappo. Dunque, poche parole da parte del presidente della regione Marsiglio sullo strappo che però c'è stato nei fatti con azione politica. Andiamo a vedere proprio dal titolo del centro a pagina 3. Zelli resta fuori e sbotta, è stata un'imboscata, lascia azione politica, si dimette e agli abruzzesi dice Marsiglio è peggio di D'Alfonso, il lungo sfogo di chi voleva un assessorato e rivela, firmammo il patto di stifia. Allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di Gianluca Zelli che si è dimesso dalla carica di coordinatore regionale di azione politica, è stato nominato un commissario e dunque ci sono già le prime polemiche a poche ore dall'insediamento della nuova giunta Marsiglio. Vediamo il servizio. Gianluca Zelli si è dimesso dalla carica di coordinatore regionale di azione politica, la civica che ha corso al fianco del centro-destra alle ultime elezioni regionali. Zelli lo ha comunicato questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi della decisione arrivata a poche ore dall'estromissione di azione politica dalla giunta Marsiglio. Essendomi dimesso non deciderò più io per azione politica, azione politica come abbiamo detto tante volte e oggi io dico sempre che le cose vanno a dimostrare con i fatti e non con le chiacchiere quindi essendo un movimento plurale composto da tante entità c'è chi berrà dopo di me quindi sono io che mi dimetto perché effettivamente sì è stata un'imboscata perché ieri era palese perché due ore mi sembra avete riportato più voi di me, mi sembra due ore che siamo stati in riunione, abbiamo passato un'ora a parlare strumentalmente perché è chiaro che era una cosa per cercare di ammorbidirmi dell'allargamento degli assessori da 6 a 8 e dopo di che abbiamo messo mezz'ora a definire guarda caso gli assessori, c'è una soluzione che non si è trovata in un mese, una soluzione che non si è trovata con i partiti, si è trovata in 20 minuti e mezz'ora con il Presidente che alla fine ha chiuso lo schema come detto da lui perché praticamente l'ultimo schema è stato dettato da lui e è stato inserito da lui l'ultimo assessore che è stato di Fratelli d'Italia quindi non solo è stato un'imboscata ma ha tradito quello che era un accordo. Vostro consigliere regionale Sant'Angelo resterà con azione politica? Ad oggi Sant'Angelo è in azione politica, nelle riunioni che ho citato prima era presente quindi sa quello che sta succedendo in questo momento, dopodiché per il resto c'è Angelo d'Ottavio, il coordinamento regionale, si vedranno oggi, sentiranno il Presidente, vedranno loro, insomma adesso mi prendo la parte positiva delle dimissioni, nel senso che non è più un mio problema. Ma il suo futuro? Il mio futuro rimane comunque a prescindere da tutto in azienda, quindi non è cambiato. Lascia la politica? Non lo so, l'ho detto alla sua collega, per oggi già di decisione ho preso abbastanza quindi prendo queste, torno al lavoro e poi in questi giorni vedremo. Commissario della lista civica sarà Angelo d'Ottavio che torna in politica dopo essere stato assessore provinciale di Pescara con Guerino Testa Presidente. Abbiamo il nostro consigliere Roberto Sant'Angelo che ci rappresenta nel gruppo consigliare di azione politica e con lui valuteremo le attività da fare caso per caso, ma faremo anche proposte, anticipo la domanda. Noi non siamo all'opposizione, ma forse non siamo neanche in maggioranza, rappresentiamo 20.000 persone e valuteremo i provvedimenti che arriveranno al Consiglio regionale. Avremmo voluto dare il nostro contributo, modesto naturalmente rispettando gli equilibri e i numeri già dal Governo regionale, ma semplicemente perché se ne era parlato, perché c'erano degli accordi e soprattutto perché si era detto di dare rappresentanza a tutti. Poi evidentemente i fattori e gli algoritmi non hanno permesso questo, ne prendiamo atto. Questo è il servizio proprio che riguarda la polemica tra il Presidente Marsiglio, la neo giunta e azione politica, vedremo se verrà ricucito questo strappo oppure no, anche se abbiamo ascoltato Marsiglio poco fa ha detto che non c'è nessuno strappo. Intanto Legnini, l'esponente di centro-sinistra, dice commissariati da Roma partiremo da domani, Legnini dice e annuncia battaglia proprio nei confronti della giunta regionale. Andiamo avanti, restiamo alla cronaca della nostra regione, ma cambiamo decisamente argomento, parliamo di occupazione, scuola, arrivano mille posti di lavoro, legge Fornero ed effetto quota 100, così vanno in pensione nel 2019 insegnanti, bidelli e assistenti nelle quattro province. Intanto a Pescara, anzi non a Pescara ma in diverse zone della nostra regione, sono arrivati i contatori elettrici intelligenti, sarà possibile controllare i prelievi di corrente e l'effettiva potenza assorbita. E poi in basso la campagna per l'udito, nonno ascoltami, premiato il popolare attore Fassari. Il Tar sblocca i lavori per l'A24 e l'A25, questo è il titolo importante di pagina 11 che riguarda la sicurezza delle nostre autostrade. La società Strada dei Parchi ricorre, batte il Ministero dei Trasporti, l'incolumità pubblica viene prima della burocrazia. Andiamo ancora avanti e ci spostiamo alle cronache dalle province. Iniziamo con Pescara, colpita la testa, mi hanno violentata, 50 anni picchiata e spogliata all'alba in una casa abbandonata frequentata da senza tetto, fermato un sospetto dai carabinieri e tutto questo è accaduto ieri mattina all'alba in via Lento, nel quartiere San Donato a Pescara, proprio in una casa abbandonata frequentata da senza tetto. Violenza al ferro di cavallo, giornalisti rai picchiati in via Tavo, obbligo di dimora per l'aggressore, questa la decisione dell'autorità giudiziaria e poi controlli serrati nelle zone a rischio, c'è anche il battaglione Calabria, questo è l'altro titolo che riguarda Pescara nell'ambito dell'operazione Periferie Sicure. E intanto continua anche l'offensiva contro i furti di energie e gas scovati, 12 abusivi, sono stati installati tra l'altro dall'Enel alcuni contatori anti-sabotaggio proprio per evitare nuovi furti di energia nelle palazzine di edilizia popolare. Andiamo avanti, un anno dopo l'omicidio di Alessandro Neri, la verità è di un passo, città tappezzata di appelli agli investigatori, manca l'ultimo tassello per incastrare l'assassino del 28enne. E poi in basso, pacchi bomba, chiesti 30 anni per cospito, l'anarchico pescarese detenuto nel carcere di Torino rischia un'altra condanna per una serie di attentati. Il giallo dello studente è scomparso, Roberto Straccia, il papà dice ora voglio la verità sulla fine di Roberto, nuove indagini sull'ipotesi di un delitto per un errore di persona, mio figlio non si è suicidato e non è morto accidentalmente, ha detto il papà ripetuto più volte in questi anni, il papà di Roberto Straccia. Andiamo in basso, donne all'arum per l'8 marzo, una mostra al femminile, un concerto per amore, gli eventi organizzati dalle pari opportunità. E la Fidas riserva una sorpresa rosa alle sue donatrici, domani in ospedale a Pescara. Restiamo a Pescara per parlare delle amministrative che si avvicinano nel capoluogo adriatico e anche in altri centri della nostra regione, candidato sindaco e braccio di ferro tra Lega e Forza Italia, Giulianti esclude nomi esterni a partito e prende tempo, prima le provinciali a Pescara. Pensiamo dopo il 10 marzo, cibo a scuola, si controlli dei genitori, il consiglio approva il nuovo regolamento, mamma e papà nella commissione che entrerà nelle mense. E poi parliamo anche di ambiente, parliamo del rinnovo dell'accordo tra Lega Ambiente e Rete Ferrovia Italiana per quanto riguarda proprio il treno verde, la Green Station, che ieri con il treno verde appunto ha fatto tappa a Pescara, se ne è parlato nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto ieri presso la stazione centrale di Pescara, allora possiamo andare a vedere il prossimo servizio. Un doppio appuntamento che da un lato ci richiama il valore della Green Station come elemento nazionale di sfida anche di recupero delle stazioni dismesse e della valorizzazione delle stazioni impresenziate, lo storico accordo Lega Ambiente e Rete Ferroviaria Italiana, dall'altro qui dentro la stazione centrale di Pescara si arricchisce la Green Station con un punto informativo informativo per le aree parco, per il turismo natura e con un centro sulla micromobilità elettrica e sul bike sharing, un elemento aggiuntivo che rafforza il nostro rapporto e la strutturazione anche dei nostri servizi all'interno della stazione di Pescara. Quest'anno il treno verde ha un impatto importante sul tema della mobilità sostenibile, in effetti in questi tre giorni affronteremo sia i temi della qualità dell'aria che faremo anche un punto e soprattutto sulle attività delle città capoluogo che si stanno adoperando sulle strategie della mobilità sostenibile, elemento fondamentale per combattere anche l'abbassamento della qualità dell'aria, sconfiggere l'inquinamento e regalare ai cittadini una qualità della vita più sostenibile. Direttore, qual è l'importanza di questo accordo che si rinnova anche oggi con Lega Ambiente? Siamo innanzitutto in coerenza con il piano d'impresa, RFI è entusiasta di appoggiare e sostenere iniziative che vanno nella direzione della mobilità integrata e sostenibile, oggi stiamo dando uno spazio non funzionale all'esercizio a Lega Ambiente e crediamo molto in questa iniziativa. Rete Ferrovia Italiana crede molto anche nella qualità dell'ambiente, anche questo il senso di questo accordo? Assolutamente sì, il treno è come sappiamo un trasporto che è ecosostenibile, così come l'interscambio con mezzi di trasporto fuori dalla stazione, biciclette, green station e quant'altro. Andiamo avanti, reddito di cittadinanza, centinaia di domande ai centri di assistenza, in file mamme senza lavoro, giovani diplomati e laureati, nessuna ressa le poste con lo scaglionamento alfabetico e dunque non c'è stato il caos nel primo giorno. Città Sant'Angelo, Carnevale vincono il corso e d'annunzio, sono stati consegnati i riconoscimenti. Siamo alla pagina di Montesilvano, la città, cantiere, opere pubbliche, ex fea, nasce il cuore di Montesilvano, il sindaco presenta il piano da 16 milioni di Euro dedicato alla riqualificazione di strade, marciapiedi, mercato, parchi e scuole. Noi fuori strada sulla spiaggia, l'associazione Civitas contro il comune, danni all'ecosistema, allontanato il fratino. E poi festa delle mascherine in piazza Baldoni a Montesilvano, successo della manifestazione organizzata da amare Montesilvano. Aggressione a Montesilvano dopo il Puglio, non ricordo più niente, parla il concessionario colpito da un cliente, il video mostra l'uomo a terra svenuto ed il giovane che infierisce con altri colpi. Omicidio stradale, patteggia un anno e quattro mesi, pena sospesa al camionista che sulla 24 uccise un padre di elice, i familiari condanna, troppo esigua. Spoltore addestramento al tiro per 11 agenti della polizia locale, a poi ancora Montesilvano, gli amici di Villa Verrocchio si riuniscono dopo 50 anni. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, partiamo da Francavilla, i pennelli anti erosione senza passerella in legno, no della soprintendenza al progetto, la pavimentazione avrebbe richiesto i parapetti trasformandoli in pontili, i lavori procedono più velocemente. Giunta dice Pagatti, Cantori assegna le deleghe, il sindaco dice Pagatti, ma si prende l'istruzione. E poi ancora Francavilla, gestione del cimitero nel mirino tariffa in ritardi, in basso ancora Francavilla al mare, carro Lego, re di Carnevale, premiata la maschera di Ciottolina, Feinstons. E poi ancora la pagina che riguarda le aree interne del Pescarese, l'area vestita e la Val Pescara, partiamo da Penne, inaugurata la scuola, una sede sicura per gli alunni del Marconi. Penne, sindaco e presidente della provincia, suonano la prima campanella con la preside al Must di Via Caduti di Marsinelle. Torre dei Passeri al Parco dei Giusti, la mattonella di Gian Palac e poi bussi rimesse distrutte nel rogo di Sterpagli. I vigili del fuoco di Alanno hanno domato le fiamme dopo due ore. Indagini in corso dei carabinieri, infine Castiglione a Casauria, viadotto chiuso, out-out alla provincia. Basta aspettare, protestano i sindaci di Castiglione, Pesco Sanzonesco e Corvara. Allora noi possiamo fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, ripartiamo dalle pagine del centro, siamo alla pagina di Echieti, musicista ucciso e giovane incensurato, pena dimezzata, delitto di Marco, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello riduce a 16 anni la condanna per cipressi, sia le attenuanti generiche e la decisione dei giudici vanno valutate al pari delle aggravanti. Atti sessuali sulla figlia della compagna, indagato, parte l'inchiesta. Andiamo a vedere la prossima pagina, un errore dietro la tragedia in mare, l'incidente alla piattaforma petrolifera a largo di Ancona, oggi l'autopsia sul gruista Benedetto, il dolore di San Salvo, addio grande lavoratore. E a vasto ci sono tanti manifesti apparsi nelle ultime settimane, lottiamo per il Tribunale, prosegue la battaglia proprio per far sopravvivere il Tribunale Bastese. Restiamo a vasto, finte dipendenti comunali messe in fuga, in due entrano in casa di un'anziana per rubare oro, ma la pensionata chiama i carabinieri. Siamo a Lanciano, nefrologia reparto record, ora cura anche i casi rari, lo staff diretto dal professor Maccarone ha effettuato 2.200 visite nello scorso anno, c'è anche chi ha effetto dalla malattia di Fabri, patologia genetica non comune. E poi, carenza di personale, i radiologi vanno a vasto, il Renzetti, proprio l'ospedale di Lanciano, resta sguarnito. Il Lanciano in passerella per i cento anni, i rossoneri festeggiano al Fenaroli, video messaggio di Daversa, Mammarella e Pavoletti. Teramo all'ospedale Mazzini muore, in sala operatoria c'è l'inchiesta, la Procura della Repubblica indaga per omicidio colposo sul caso della 43enne deceduta un mese fa, sequestrate le cartelle cliniche. Aiuti per valorizzare le idee innovative, imprese, accordo fra Camera di Commercio e Università dell'Aquila per aumentare marchi e brevetti, Nereto, vedete in basso, lavori per la caserma dei forestali, aperto il cantiere nella sede dell'arma di Via Roma, l'intervento costa 80.000 Euro e terminerà a giugno. Siamo ancora a Teramo dove ci sarà l'alta formazione della Polizia, firmata ieri la Convenzione per favorire l'iscrizione degli appartenenti al corpo ai corsi della Facoltà di Scienze Politiche, vedete nella foto la stretta di mano tra il Rettore dell'Università di Teramo, Mastro Cola, ed il Questore di Teramo, Enrico De Simone. Andiamo a centropagina, cibi consigliati agli islamici, protesta nella mensa, il menù rimosso dopo la richiesta degli universitari in basso, presentato il nuovo piano di emergenza, area esterna dei laboratori del Gran Sasso e poi Michele Placido incontra i detenuti per l'Ectus nel carcere di Castrogno di Teramo. Vedete nella foto il noto attore con una rappresentanza di agenti con i vertici del carcere della casa circondariale Castrogno di Teramo. Siamo a Roseto, la madre di un bimbo autistico abbandonati da Comune Asler, la donna racconta il suo calvario dal 2016 ad oggi, mio figlio peggiora sempre più da mesi, siamo in attesa per la riabilitazione ma ci serve anche l'assistenza domiciliare. E poi Consiglio Comunale di Roseto, due mozioni su sicurezza e installazione di colonnine elettriche a Teramo, il liceo delfico premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci spostiamo nella Val Vibrata, a Martinsicuro tornano i vandali al parco Tronto River, distrutte le capanne per l'osservazione degli uccelli e altre attrezzature. Tornando invece a Roseto, stadio Fonte dell'Olmo, concessione ai privati per dieci anni, questa la decisione dell'amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Sabatino di Girolamo. Siamo a Pineto, Iezi, il nostro candidato resta il Sindaco Verrocchio, elezioni a Pineto il silenzio del primo cittadino genera confusione nel PD, si fa avanti anche Cantoro, ho intenzione dice di dare il mio contributo. Pineto, truccano gli orari a processo per truffa, tre dipendenti di una ditta privata accusati di avere manomesso gli orologi, marca Tempo. Silvi, tirocini in comune per 12 lavoratori, progetto regionale proprio che si terrà nella cittadina riverasca del Terramano. Siamo alla pagina dell'Aquila, la sentenza, picchi architetto sei mesi al costruttore, ma c'è la controdenuncia, Cipriani che respinge tutte le accuse, giudicato colpevole di lesioni per aver aggredito l'alto professionista dopo una lite. Avezzano, denunciato automobilista pirata, ha ferito gravemente una donna, ma è giallo. E poi pedagio autostradali, giudice prende tempo, Avezzano udienza in tribunale dopo la denuncia del Sindaco di Aielli e di altri utenti della 24 e la 25. Ci spostiamo a Sulmona, scoperta la truffa del gratta e vinci, i biglietti taroccati dall'esercente che teneva per sé quelli vincenti, raggiro da 15 mila Euro. Andiamo a vedere la prossima pagina che riguarda il decennale del terremoto dell'Aquila, mancano 30 giorni, gennaio 2009, trascosse Lotteria Italia e Sant'Agnese, premio da 50 mila Euro venduto all'Aquila e sfilata in 100 dei linguacciuti, poi sisma, torna a farsi sentire, con le maggio facciata inghebbiata per i restauri, di questo ed altro si parla in questo decennale del terremoto aquilano. Andiamo avanti, ci spostiamo nella Marsica, la testimonianza, Cicchinelli, io ad Algeri in mezzo alla rivoluzione, è approdato nel paese nordafricano dieci anni fa, ha fondato la Maison Mattei e in atto una rivolta sono fuggito per le vie della Casbah con migliaia di studenti. Questo è il racconto dell'imprenditore marsicano partito da Trasacco e poi costretto a rientrare proprio per i problemi che in queste settimane ci sono proprio in Algeria in vista delle elezioni presidenziali. E poi in basso, mio padre scampato a Matausen, oggi a Palazzo Torlonia, ci sarà la presentazione del volume di Giuseppe Grossi sul papà prigioniero del Lager. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere ancora le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e poi del quotidiano La Città. Ripartiamo dal Messaggero, parliamo di giunta regionale, in boscata di Marsilio, Zelli lascia alla coalizione, polemiche all'interno del centro-destra. Abbiamo visto prima i servizi con le dichiarazioni del Presidente Marsilio, anche sui fondi per la viabilità provinciale, poi le parole di Zelli che si è dimesso proprio dopo l'esclusione dalla Giunta. E come vi dicevo, sbloccati 56 milioni per le strade, lavori in accordo con le province. Siamo a Pescara, ipotesi privatizzazione per l'Università, la trasformazione della d'annunzio in fondazione è prevista dalla legge Brunetta, il Rettore Caputi valuta i vantaggi dell'opzione. Lo smog sotto la lente del treno verde, due giorni di analisi di lega ambiente, abbiamo visto prima il servizio con l'accordo firmato ieri a Pescara alla stazione centrale. E poi io, neoconsigliere, già da Rottamare, Mirko Frattarelli e Primo Giorno in Comune, in pochi mesi cercherò di lasciare un segno su cultura e giovani. Cronaca, pesca abusiva sotto sequestro da parte della Direzione Marittima di Pescara, 500 kg di tonno rosso. Andiamo avanti, la prossima pagina, giornalisti aggrediti scattano le misure con l'obbligo di dimora per uno degli aggressori. L'addio a Sandro Canestrini, l'avvocato che difese i rivoltosi di San Donato, a Rovereto l'addio a un protagonista di battaglie civili, fu impegnato anche all'Aquila nel caso del Vaiont. Quartiere blindato, torniamo a Pescara, armi abusivi e ladri di elettricità nella rete di polizia e carabinieri. Andiamo a vedere anche la prossima pagina, sconti fiscali per non far morire i negozi, riaprire locali sfitti e calmierare i canoni, gli obiettivi della richiesta di confcommercio. Lungo il Saline siamo a Montesilvano, il cimitero delle gomme usate, l'area sequestrata dai carabinieri forestali, alcuni adesivi consentono di risalire ai nomi dei rivenditori. E poi Pablo Veron per tre giorni a tutto tango, a Pescara. Per quanto riguarda invece la cronaca giudiziaria, patteggia l'automobilista che investì un operaio. A Pescara ancora è genita il controllo sulle menze scolastiche. Arriva infatti il nuovo regolamento, come annunciato dall'assessore comunale Giacomo Cuzzi. Concerti per i 50 anni del conservatorio, parliamo del conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Oggi ci sarà il debutto. Siamo alla pagina dell'Aquila, centro storico, una gioia a metà, bello ma ora serve la polis e le voci di chi vive e lavora nel cuore antico della città. Nuova giunta comunale, Silveri Junior alza il prezzo. E poi sanità, arrivano procreazioni assistite, parto indolore, in basso, ambiente violato, incendio a fonte vedica, 4 a giudizio. E poi la tragedia, entra in casa e trova una donna morta. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. I nuovi palasporti, incognita gestione, il genio civile dato in via libera, gli ultimi lavori previsti per la struttura di Viale Ovidio all'Aquila, appalto da 350 mila euro. Cultura, teatro, due appuntamenti speciali con il teatro stabile, il teatro Zeta. E poi il progetto, serve un altro milione per il Maxi dell'Aquila. E poi il Munda e il suo eroe resiliente, innamorato del mio lavoro. I pedaggi autostradali davanti al giudice, una cinquantina di automobilisti marsicani ha chiesto di bloccare definitivamente gli aumenti tariffari su A24 e A25. Pacentro, le tre auto a fuoco, si fa giustizia da sola. Tagliacozzo, rientra la crisi e arriva la nuova assessora. Sul Mona, biglietti gratta e vinci alterati e solo per denti. E' accaduto proprio nella città Peligna, Avezzano, giurisprudenza pronti al crua. I locali per la facoltà Civitella Alfedena, morta l'anziana che offriva frutta agli orsi. Avezzano, Pisegna, nella Marsica, provincia assente. Andiamo a vedere la pagina di Chieti che ci porta a parlare di tasse. La Tauri aumenta fino al 10%, mistero diminuzione dei costi. I rincari verranno sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale. Mercoledì il prezzo più salato sarà per i titolari di attività industriali con capannoni. Reddito di cittadinanza, nessuna coda negli uffici a Chieti. E poi assolto dal giudice, condannato dai colleghi di lavoro, il direttore dell'ufficio postale demanzionato e trasferito ha fatto causa per mobbing. Il corpo di Egidio ritrovato all'alba sono servite 20 ore per recuperare la salma di Egidio Benedetto, il 63enne morto nell'incidente sulla piattaforma di Ancona. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'ex sindaco gli mancavano pochi mesi alla pensione. Ortona ha inaugurato ieri l'ufficio turistico, è stato affidato ad un nuovo gestore. E poi palloncini e lacrime a Vasto per l'addio a Linda Ialacci storica, allenatrice di e-basket molto conosciuta in tutto l'ambiente sportivo regionale. Siamo a Lanciano, mamme sole con i figli e poi anziani in fila dalle 7.30 al CAF. Per il reddito ancora a Lanciano, Corso Trento e Trieste è concluso il secondo lotto dei lavori. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Si parla anche in questo caso di reddito e di cittadinanza. In tanti chiedono ma niente file agli sportelli. E poi assenteismo, tre nei guai, nella società umanitaria. Andiamo più in basso per vedere un altro titolo. Lectio Magistralis del Presidente, Gravina, Presidente della FIGICI presso l'Università di Teramo. E poi calma negli uffici, magari fosse sempre così. Si parla proprio del temuto assalto negli uffici provinciali, anche della provincia di Teramo, negli uffici postali per la questione reddito di cittadinanza. Un assalto che poi nella realtà dei fatti non c'è stato. Parliamo anche di ricostruzione. La provincia, l'ANAS, deve fare di più. Questo quanto detto dal Presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura. Andiamo a vedere anche la pagina della provincia di Teramo. Partiamo da Giulia Nuova con il commissario prefettizio Soldà che attacca Palandrani. Ultima chiamata. Il commissario in un video replica le critiche piovute addosso in questi mesi. Costantini non dice nulla. Andrea, l'ex delfino di Arboretti, ha rifiutato le offerte. Potrebbe correre con una lista civica. Magari sarò solo consigliere. Andiamo a vedere altre notizie. Giulia Nuova sulla Tari, Albani replica alla Rotini. E poi Valvibrata, Vallese, diventa sindaco protempore a Corropoli. Prende il posto di Umberto De Annuntis, eletto in regione con Forza Italia. Siamo arrivati allo sport in questo caso, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Vediamo se possiamo recuperare la seconda pagina. Eccola qui. Si parla ovviamente, anche in questo caso si riparte parlando di politica. La giunta Marsiglio varata tra i dissapori. L'abbiamo detto anche prima, c'è stata subito la polemica con azione politica. Vedete la Lega ha fatto fuori i più votati, tra cui Quaresimale con l'esterno Fioretti e in plane per Forza Italia De Annuntis sotto segretario. Vedete in questo specchietto piuttosto chiaro ed esplicativo la nuova giunta regionale d'Abruzzo con Marco Marsiglio, presidente di Fratelli d'Italia, vicepresidente Emanuele Imprudente con anche la delega all'agricoltura e poi gli altri assessori. Nicoletta Verì alla sanità, Nicola Campitelli all'urbanistica, Piero Fioretti assessore esterno lavoro e formazione, Mauro Febbo attività produttive e turismo, Guido Quintino Liris bilancio personale patrimonio, Umberto De Annuntis sottosegretario con la delega ai trasporti e alle infrastrutture, Lorenzo Sospiri è il nuovo presidente del Consiglio regionale. Andiamo a vedere l'altra pagina, Zelli spara zero in imboscato, l'abbiamo ascoltato prima, gli abruzzesi ha detto Zelli impareranno presto a conoscere chi è Marco Marsilio e in basso Legnini mette subito il Piaga, si discute solo di nomi e di spartizione di poltrone, ha detto l'esponente del centro sinistra. Teramo, niente caos per il reddito di cittadinanza, le domande per la misura assistenziale vanno ragionate, preparate bene per evitare pasticci e denunce. Istituto Zoprofilattico pronto a ritirare il progetto Campofiera, le lungaggini del Comune sull'accordo transattivo mettono a rischio i 10 milioni di finanziamenti. Detenuto salvato dal suicidio, dalla penitenziaria siamo a Teramo, aveva ingerito un cocktail mortale di farmaci, ieri al carcere c'è stata la visita di Michele Placido. Mazzini percorso ad ostacoli per le ambulanze, siamo ancora a Teramo, la nuova viabilità dell'ospedale La Sosta Selvaggia creano problemi ai mezzi dell'emergenza per il 118. Arte, in piazza Sant'Anna torna il white box degli artisti di Big Match, la seconda rassegna curata da Martina Lolli ospiterà 8 autori abruzzesi sul tema delle periferie cittadine. ZTL, multati furbetti di porta delle recluse tra le decine di sanzioni, siamo sempre a Teramo, ci sono commercianti residenti ma anche titolari di permesso d'accesso. Cortocircuito sui piatti musulmani in Ateneo per Ludu, l'indicazione dei cibi musulmani sarebbe discriminatoria per l'Addus, è vero, l'esatto contrario. Proseguiamo, pagina 11, accordo tra l'Università di Teramo e la Polizia sulla formazione, è stata firmata infatti la prima convenzione d'Italia tra Università e Corpo, sarà riservata anche ai familiari dei poliziotti. Andiamo avanti con la prossima pagina, il sindaco minaccia di fermare gli scuolabus, Valle Castellana, D'Angelo chiede interventi celeri alla provincia per mettere mano alla viabilità di sa strada sulla strada provinciale 49. Siamo a Montorio, soffriamo ancora per la discarica di Altavilla, avanti insieme spiega il no all'impianto delle mote per il trattamento di rifiuti. Proseguiamo sempre dalle pagine del quotidiano La Città, siamo arrivati a pagina 13, pronto il piano emergenze del Gran Sasso, ieri la presentazione in prefettura, ora parte la consultazione per le eventuali osservazioni dei cittadini. Sanità, il centro fibrosi di Atria è al collasso, le famiglie minacciano di rivolgersi fuori regione, l'allarme è lanciato dal presidente dell'AIFC Celestino Ricco. Viabilità accordo tra regione e province per lo sblocco dei cantieri, se ne è parlato ieri nella conferenza stampa, abbiamo visto anche prima il servizio che si è tenuta presso la sede del Consiglio regionale a Pescara. Lunedì iniziano i lavori sul lungomare, siamo in Val Vibrata, Tortoreto, martedì intanto sono i partiti lavori per gli spogliatoi dello stadio. Al Badriatica, la Bambinopoli è di nuovo protetta dal mare sistemati i massi, ancora Tortoreto, un ospedale in Africa nato grazie alla solidarietà. Corropoli, anche il Consiglio Comunale saluta ad Annuntis, l'ex sindaco ha presentato una lettera indirizzata a tutti i consiglieri comunali di Annuntis, che è stato eletto consigliere regionale, lo abbiamo detto anche prima. Siamo a Torano, polemica per la bandiera del PD sulle transenne della Chiesa, inagibile. Siamo alla pagina di Giulianova, soldà rompe il silenzio e bacchetta, non sono stato mandato a Giulianova per imbalsamare la città, se qualcuno crede che abbia passato i limiti può anche impugnare le mie delibere. Ancora Giulianova, water e sedile fanno bella mostra in un prato delle due turistica e poi festa delle donne, domani al Cursal di Giulianova, la prima emozione del concorso dedicato alla dottoressa Esther Pasqualoni, ricorderete, morta due anni fa a Santomero. E poi Giulianova ancora, iniziati i lavori di restyling sul lungomare, si comincia con lo smontaggio dei tripoti della pubblica illuminazione. Siamo a Roseto, anche concerti e manifestazioni nello stadio di Fonte dell'Olmo, l'affidamento decennale dell'impianto rosetano è pronto ad andare in gara. I pali pericolanti saranno sostituiti senza aspettare il nuovo project. Siamo sempre a Roseto degli Abruzzi. Nicola Petrini, assessore alle manutenzioni di Roseto, rende noto di aver trovato infatti la soluzione ottimale per l'installazione dei nuovi corpi illuminanti. Restiamo a Roseto, più controlli contro incivili e discariche abusive, accordo fra comune e associazioni ambientaliste per la convocazione di tavoli periodici. Siamo arrivati alle pagine della cultura, Aket e Lomuscio, live in Duomo, il duo in concerto a Teramo per la serata organizzata dal Proloco di Cerqueto. Arriviamo alla pagina dello sport che in questo caso riguarda il Teramo perché quella di ieri è stata una giornata importante per la società bianco-rossa. Vedete il titolo, bocche cucite ma la trattativa va avanti. Ieri il secondo summit tra il Presidente Campitelli, Quintiliani ed il Sindaco D'Alberto. Vedete la foto. I temi giovani e impianti. Dalle indiscrezioni la percentuale con cui potrebbe entrare l'imprenditore è quella del 20%. Noi lasciamo il Teramo, siamo quasi in chiusura e parliamo del Pescara andando subito ad ascoltare perché sabato si tornerà in campo con i biancazzurri impegnati alle 15 al tombolato con il Cittadella e noi andiamo ad ascoltare uno dei giocatori più in forma del momento in casa Pescara. Si tratta del difensore Gennaro Scognamiglio. Due gol subiti nelle ultime quattro partite, il Pescara chiude la difesa, Gennaro è il caso di dire? Speriamo, speriamo bene. Sicuramente in queste ultime quattro partite abbiamo fatto bene tranne la parentesi di Benevento, qui cinque minuti finale dove si poteva portare a casa un punticino che ad oggi sarebbe stato veramente importante averlo, però al di là di questo diciamo che quello che abbiamo fatto lo lasciamo dietro e guardiamo avanti. Adesso ci aspetta questa partita a Cittadella dove è una partita da preparare bene, in tutti i particolari perché sono una squadra forte che gioca da tanti anni insieme e quindi sappiamo di andare ad affrontare una squadra in salute e bisogna portare a casa un risultato positivo. Cittadella che non evoca bei ricordi all'andata inflisse al Pescara, la prima sconfitta casalinga della stagione, cercherete anche di vendicare sportivamente parlando quel K.O.? Sicuramente questo ci deve far riflettere e ci deve dare ulteriore spinta per poter fare una partita forte e come dicevo prima di portare a casa un risultato positivo. I numeri del campionato dicono che per la Serie A diretta c'è anche il Pescara, tre punti dal primo posto, tutto è in gioco. Quello bisogna dimostrarlo sul campo partita dopo partita. Noi se facciamo risultati positivi da qui alla fine sicuramente ce la possiamo giocare. Se siamo capaci di fare tutti i risultati positivi allora ci giochiamo la Serie A anche noi. Per Gennaro Scognamiglio già da diversi mesi è iniziato un nuovo campionato con il Pescara con qualche mese di ritardo ma ora sei diventato un titolare inamoibile. Cambiano, ruotano tanti centrali di difesa però tu sei sempre titolare, una bella soddisfazione. Sicuramente sì perché comunque ci tenevo a dimostrare il mio valore, come ci tengo a finire bene perché ero venuto qui per dimostrare il mio valore, per dare una mano al Pescara. Quindi all'inizio è stato un po' un inizio particolare anche causato dall'infortunio che ho avuto però adesso sono contento, sto dimostrando il mio valore sul campo e voglio continuare da qui alla fine a dimostrare. Andiamo a vedere velocemente i titoli dei quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, Inter i Cardi, segnale di pace, il disgelo, Marotta incontra Maurito e Vanda, l'argentino chiede di non essere considerato un problema, in alto Roma beffata, esce per un rigore al centodiciassettesimo, ma ce n'era anche uno su Schick. Vediamo il Corriere dello Sport, Vergogna, arbitro e VAR eliminano la Roma. I Cardi in campo, Mister Wolf e poi tutto a sport, una Juve per due, Conte con Pirlovic e Zidane si contendono il dopo Allegri. Andiamo a vedere anche il quotidiano il centro, tralasciando lo sport nazionale di cui abbiamo parlato guardando i titoli dei tre quotidiani sportivi. Parliamo del Pescara, Pescara viaggia verso l'Ao grazie ad una difesa di ferro, nessuno meglio del Delfino nelle ultime cinque partite, appena tre gol subiti, Scogna Miglio pronti per qualcosa di grande, lo abbiamo appena ascoltato, Paolucci, Delfino super, ma occhio al Cittadella, il centrocampista della Entella è un doppio ex, non sono affatto sorpreso dal ruolino di Pilon. Serie C, Quintigliani è pronto ad entrare nel Teramo, attesa ad ore la fumata bianca, Coppa Italia di eccellenza, finisce il sogno della Miternina spuntata che perde per 1-0 in casa del Treppini Matese e poi Antignani, figlio d'arte a 37 anni, punta quota 300. Il 6 Nazioni, il Teramano Riccioni sogna l'esordio nel Taikuman e poi il calcio a 5, ecco il Sapone, Born sorteggio nei quarti di Coppa Italia, le donne del Montesilvano giocheranno contro la Ternana, infine il basket di Paolo Antonio, il cuore in tumulto, Roseto è un modello, il tecnico Teramano Dell'Imo, la domenica per la prima volta da avversario al Palamaggetti, un posto speciale per me. Vediamo anche le pagine dello sport del messaggero, Scogna Miglio, Muro, Pescara, il difensore centrale sempre in campo negli ultimi tre mesi, abbiamo come detto appena ascoltato le sue dichiarazioni ai nostri microfoni e poi Pilon sceglie il trequartista, Sottil o Melegon in ballottaggio per sostituire Marras che è squalificato. E poi Coppa Italia di calcio a 5, Acqua e Sapone ai quarti con la Lazio e poi Coppa Italia di eccellenza, un rigore molto dubbio, elimina la Miternina. Vediamo anche la prossima pagina, Quintigliani e Campitelli, arriva il contatto e poi Box tutta Chieti, Tifa Cavallucci. Siamo così giunti davvero al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito, vi rinnovo come sempre l'appuntamento per quanto concerne l'informazione della nostra rete alle 14 con la prima edizione del Tg6, poi vi ricordo anche le altre edizioni alle 19, alle 23, oggi daremo grande spazio anche alla politica nel corso dei nostri Tg con i servizi anche dall'Aquila per l'ufficializzazione della nuova giunta regionale e poi per lo sport, non perdete questa sera alle 21 in diretta dai nostri studi, ve lo con Jacopo Forcella, davvero tutto, buona giornata. Grazie per la visione!